Giocato con percentuali di tiro altissimi, sentite i fischi sonorissimi e i meritatissimi. Dalla Carpegna a Presciutto Pesaro vince più che meritatamente Vigevano. Tremendo bagno di realtà per la VL all'esordio della Vitre Frigo Arena nel campionato di Serie A2. La realtà di una categoria in cui ci sarà da battagliare ogni 3-4 giorni con teste e gambe ben collegate. L'ho ribadito forte e chiaro l'esordio con l'Elecan Vigevano che sbanca l'astronave con il punteggio di 80-67, fedele specchio di una partita dominata dagli ospiti fin dalla palla 2. Lombardi che hanno infatti l'approccio giusto per prendere in largo e tenere a bada gli sbilenchi tentativi di rimonta pesarese. Sacripanti a fine gara non si nasconde parlando di sconfitta giusta, di netto passo indietro rispetto a Lecce, con tanto di richiesta di scuse ai quasi 4.000 pesaresi che hanno popolato il battesimo infrasettimanale interno nella categoria. Una partita nata male da subito perché Vigevano parte con un netto 9-0 al cospetto dello stesso quintetto di partenza pesarese che male aveva approcciato anche a Lecce. Il risultato è quello di un primo parziale che si chiude sul 16-26. Meglio l'approccio al secondo quarto con la rimonta al 30 pari che risulta però un altro fuoco di paglia, perché Vigevano piazza un altro break che la manda all'intervallo sul 40-48. Situazione che non migliora nel terzo quarto, chiuso 53-65 per poi arrivare almeno 13 di fine gara che contrassegna il primo successo di Vigevano. I 18 punti di Amade e i 10 di King, unici in doppia cifra, non salvano i due americani da una gara insufficiente. Serverà ben altro domenica con Avellino ancora alla Vitre Frigo Arena.